Bella a tutti i miei slimes qui alb bentornati nel mio canale eccoci qui con un nuovo video e oggi parliamo delle fsk in modo particolare andremo a vedere se la loro separazione ormai da più di un anno a questa parte è stata una cosa più negativa o positiva io comincerei dalle basi ma prima di farlo lasciate un mi piace iscrivetevi al canale se non lo siete lasciatemi un commento e qui sotto in descrizione trovate tutti i miei social tutti i miei link playlist gruppo telegram e tik tok il 29 giugno 2021 o comunque in quel periodo lì le fsk annuncia sui propri social di prendersi una piccola pausa dal gruppo si sarebbero concentrati più sulle loro carriere soliste e soprattutto non avrebbero più lavorato ad un progetto targato fsk almeno per un po di tempo c'è da dire che questa cosa inizialmente era stata percepita in maniera piuttosto negativa ma più che altro dai fan perché le fsk fino ad allora aveva fatto bene come collettivo e quindi l'idea ora di vederli delle carriere soliste o comunque da artisti singoli era per certi versi un rischio io partirei da chiello che forse tra i tre è l'artista di cui possiamo fare un quadro più preciso perché è l'unico che ad oggi ha droppato un progetto solista lui sin dai tempi in cui le fsk satellite era un gruppo di emergenti e niente di più ha sempre avuto questo tra virgolette bipolarismo da una parte la musica che faceva con le fsk decisamente dal suono trap e dall'altra invece canzoni molto più sentimentali che poi ad oggi possiamo anche per certi versi definire un po indie o comunque pop e quando uscì questa cosa della pausa lui sulla carta probabilmente era l'artista che poteva trarne più vantaggi perché aveva finalmente modo di concentrarsi su questo suo suono che non aveva invece assolutamente modo di esprimere con il collettivo quindi ora apriamo spotify e vediamo quello che effettivamente chiello ha droppato dal 30 giugno in poi il primo singolo che fa uscire dopo questa notizia è quanto ti vorrei totalmente prodotto da shablo una canzone dalle sonorità decisamente pop questa canzone poi andata anche abbastanza forte a livello di numeri a livello anche di tik tok e altri social del genere poco da dire a me è piaciuta non la mia preferita di chiello ma ci sta dopodiché c'è una collaborazione piuttosto importante perché insieme a madame viene inserito nel disco di sic luke con la strega del frutteto e secondo me questa canzone è veramente una hit cioè non vi posso negare che mi piace molto sia perché un bel ritmo sia perché chiello qui secondo me fa molto molto bene e insieme a madame ha anche formato una bella coppia quindi poco da dire prima di arrivare a questo featuring in realtà mi accorgo adesso che il 14 ottobre 2021 fa uscire oceano paradiso il suo tanto atteso album solista in questo caso di trap c'è poco e nulla direi solo da merino con taxi b che è la canzone che per sonorità ricorda un po di più le robe che faceva con le fsk per il resto è chiello 100 per cento su questo stile sentimentale un po indie questo album poi è stato apprezzato un po da tutti soprattutto dai fan che lo aspettavano da davvero tanto tempo ma anche da chi non lo conosceva e sentiva questo chiello per la prima volta con sonorità indie diceva wow io personalmente anche l'ho apprezzato l'ho avuto in loop per un periodo e secondo me tutt'oggi è un bel progetto anche se vi devo dire la verità le canzoni che aveva fatto ai tempi tipo di fsk trap sheet o padre figlio e spirito soliste secondo me se lo mangiano questo disco ma nonostante questo ci sono davvero delle belle tracce mi accorgo adesso che il 23 giugno di quest'anno invece ha fatto uscire dove vai un singolo che sinceramente io non avevo mai ascoltato quindi me l'ero totalmente perso in realtà sono abbastanza sorpreso però tralasciando questo ora possiamo magari anche tracciare un quadro generale di chiello ad oggi lui decisamente ha avuto più benefici che altro da questa separazione perché si è affermato come uno degli artisti pop indie della scena mainstream italiana più interessante è riuscito a collaborare con tanta tanta gente ed è letteralmente scoppiato perché poi anche a livello di concerti ultimamente sta sempre riempiendo tutto sta facendo il panico e anche la sua musica onestamente ha trovato un modo di esprimersi che molto probabilmente non avrebbe mai avuto se si fosse concentrato solo a fare roba con l'fsk ora invece mi concentrerei su sapo vi ricordate quando vi dissi che chiello sulla carta era l'artista che poteva trarne più vantaggi sapo decisamente il contrario personalmente è un artista che mi è sempre piaciuto l'ho sempre avuto a cuore soprattutto in fsk trap città ha fatto il panico poi anche in quel periodo a livello di featuring di collaborazioni con altri artisti ha sempre fatto bene una volta arrivato padre figlio spirito invece ho incominciato ad avere qualche dubbio perché secondo me in quell'album è clamorosamente il peggiore o comunque è molto sotto tono quindi dopo un album così in generale un periodo in cui faceva fatica a esprimersi era un po' sempre la solita minestra riscaldata in quel periodo onestamente il mio hyper sapo stava scendendo drasticamente tutto questo per dire che nel suo caso i buoni presupposti non c'erano dopo la divisione ma invece probabilmente ancor più di chiello è un artista che mi ha sorpreso questo perché sin da subito dopo la pausa ha cominciato a rilasciare diversi singoli e diverse collaborazioni e in queste canzoni pezzo dopo pezzo è sempre riuscito a migliorare in modo particolare la prima canzone che esce è il dvs molly remix con i thb in cui secondo me spacca perché onestamente io non sono uno un amante dei remix secondo me la versione originale nel 90 per cento dei casi è sempre la migliore però in questo caso sapo bulli aveva fatto una strofa che aveva un senso di esistere in questo remix perché aggiungeva qualcosa di più alla canzone dopo di che esce killer con daytona io poi mi sto basando su spotify quindi probabilmente potrei saltare qualche traccia spero di no killer con daytona è un'altra bella canzone perché lui oltre ad aver già dimostrato negli anni passati di formare veramente un bel duo con daytona in questa canzone lo ritroviamo un po rinnovato nel suo stile nel suo vocabolario e in generale la canzone è bella già di per sé sempre qualche mese più tardi esce money maker con only one ancora una volta una coppia un po ambigua perché non mi sarei mai aspettato di sentirli insieme però anche qui ho un bellissimo ricordo della strofa di sapo perché anche in questo caso l'ho reactata poi ad agosto fa uscire questa canzone mafioso con retro x ancora una volta bella bella secondo me piano piano stava sempre migliorando in queste canzoni fino ad arrivare l'uno settembre l'ultimo dei suoi singoli tu famous come al solito prodotto da greg willen e questa è la canzone che probabilmente mi ha stupito di più di sapo perché qui troviamo un sapo bulli con uno stile nuovo decisamente ispirato alla wave west cost americana che comunque ci sta è riuscito anche in un certo senso ad espandere il suo vocabolario chiaramente le produzioni di greg willen non possono che farli bene e anche con un flow diverso finalmente invece da quello con cui l'abbiamo sempre scoperto molto rallentato sin dai tempi del 2018 in poi apriamo una piccola parentesi è sempre sapo bulli conosciamo i suoi limiti non potrà mai uscire troppo magari dalla sua zona comfort trap ma allo stesso tempo trovo che in questa zona trap stia riuscendo piano piano a mettersi sempre a suo agio e questa cosa non può fare altro che aiutarlo a diventare magari uno dei più grandi rapper a fare trap anche perché a livello mainstream ora come ora mi vengono il suo nome e qualcun altro però quasi tutti gli artisti italiani grossi sono passati ad avere sonorità più pop indie così come abbiamo anche visto nel video del 2016 ora passiamo a taxi b si può fare un discorso analogo un po a quello di chiello sulla carta e insieme a lui era l'artista che probabilmente aveva modo di esprimere meglio il suo potenziale ha sempre avuto queste influenze un po techno un po house un po alternative in generale e chiaramente avendo dalla sua un produttore come greg willen che anche questi suoni li conosce molto bene potevano solo fare bene il 17 settembre esce sesso e soldi totalmente prodotto da boss dom su una canzone appunto molto sperimentale molto in stile taxi b o comunque quello che mi aspetto dal taxi b solista un bel pezzo tutto sommato chiaramente anche l'unione con boss doms ha fatto molto bene perché anche lui è un artista che poi ha una serie di influenze tutte strane su web quest'estate anzi al 4 maggio non proprio quest'estate ha fatto uscire samba una canzone che è andata molto forte a livello di numeri soprattutto su social come tiktok anzi attualmente dopo 10 sprite la sua canzone più streamata da solista incredibile onestamente non mi ha fatto impazzire non è male carina l'idea comunque di mettere questo sample della samba brasiliana insieme alla voce di taxi totalmente gridata però per quanto mi riguarda è una di quelle classiche canzoni un po da tiktok cioè a parte per il meme non me la sono mai ascoltata più di tanto il 14 luglio di quest'estate fa uscire pippare prodotta da greg willen in questo caso l'ho anche riattata e mi è piaciuta la trovo una canzone interessante soprattutto per le sonorità e per le influenze che ha ed è quello che essenzialmente poi mi aspetto da taxi b perché sulla carta un suo progetto solista totalmente prodotto da greg winlen potrebbe essere una delle robe più sperimentali uscite in italia quantomeno negli ultimi anni abbiamo parlato dei artisti solisti ora farei un quadro generale proprio del collettivo di tutti e tre cioè ora rispondiamo alla domanda il fatto che si siano allontanati è stato effettivamente un male o un bene a mio avviso dopo un anno e quasi e mezzo ci sono più aspetti positivi che negativi perché tutte e tre hanno avuto modo di rafforzare la propria zona di comfort e in generale scoprirsi più da soli come artisti ci hanno avuto modo di esprimersi meglio cosa che tutti e tre insieme in un collettivo non avrebbero mai avuto modo di fare quindi io non sono per niente dispiaciuto il fatto che si siano allontanati per lavorare a progetti solisti allo stesso tempo sono curioso di un loro possibile ritorno insieme perché secondo me il giorno in cui dovessero decidere di lavorare di nuovo a un progetto targato fsk potrebbero farlo con molta più consapevolezza dei loro mezzi rispetto a quello che potevano avere prima queste sono un po le mie considerazioni sul discorso fsk e quello che penso di loro come collettivo e di loro come artisti solisti di quello che hanno fatto in generale in questo periodo voi cosa ne pensate il loro allontanamento la vedete più come una cosa negativa o positiva fatemelo sapere qui sotto nei commenti che vi leggo tutti se il video è piaciuto chiaramente come al solito vi invito a lasciare un mi piace un commento se non lo siete iscrivetevi al canale se lo siete già attivate la campanellina così non vi perdete ogni notifica qui sotto in descrizione trovate i miei social account tiktok il gruppo telegram e le playlist anche quella del rap italiano quindi passate condividete questo video con quanta più gente volete e potete noi ci vediamo ad un prossimo slat